Siamo qui per la libertà, per la nostra libertà, per i nostri diritti, siamo consapevoli del fatto che stiamo vivendo in un periodo storico non facile e che chi sta amministrando a nostro detto in maniera illegittima e sbagliata non sta amministrando bene, capiamo anche che ci sono delle difficoltà oggettive però riteniamo che uno strumento chiamato Green Pass per il quale noi oggi stiamo protestando non sia uno strumento medico ma un mero strumento politico-economico. Green Pass! No Green Pass! Lei per esempio è a favore della vaccinazione? Noi non siamo contro il vaccino, io sono un free vax, ritengo che ognuno nella propria libertà, qualsiasi cosa ritenga più giusto per la propria salute, debba farlo e debba percorrere quell'obiettivo, una, due, tre, cinque, dieci dosi, non è importante. Come possono avere un costo i vaccini? Va tutelato il Parlamento, lo Stato per antonomasia dovrebbe difendere sempre quelli che sono i più deboli, a oggi ha detto a loro i numeri minoritari siamo noi, i più deboli siamo noi, quindi andiamo difesi, andiamo tutelati e andiamo magari accompagnati in un percorso diverso rispetto a quello che hanno fatto gli altri.